Musica Good afternoon Sapete, ci sono momenti in questa vita, lo dico letteralmente, in cui il male puro non adulterato si scatena su questo mondo Il popolo di Israele ha vissuto uno di questi momenti, questo fine settimana per mano insanguinata dell'organizzazione terroristica Hamas Un gruppo il cui scopo dichiarato è quello di uccidere gli ebrei, questo è stato un atto di pura malvagità Io penso che difendere il diritto all'esistenza e alla difesa di Israele sia un modo per difendere questi giovani, questi bambini, queste donne E credo che chiaramente bisogna intensificare la protezione dei cittadini in religione ebraica anche sul nostro territorio Perché il rischio di emulazione degli atti criminali che abbiamo visto da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi L'Italia sostiene tutte le iniziative favorevoli alla de-escalation Certo, questo non può significare la rinuncia di Israele all'autodifesa L'unica divisione che dovremmo far emergere ora è quella tra chi vuole una pace duratura e chi lavora contro questa prospettiva Scegliendo il terrore e la violenza Questa disfatta è colpa di Netanyahu, scrive lo scrittore israeliano Ecco, dentro queste parole la politica deve leggere il senso più intimo della sua missione Indagare le origini che hanno portato a questo, ragionando della complessità Esiste, colleghe e colleghi, una terza scelta che non ha nulla a che vedere con l'equidistanza È la scelta di chi sta con i civili, quelli che non scelgono mai nulla È la scelta di chi sa che il proprio nemico è innanzitutto la violenza, il fanatismo, il fondamentalismo, l'apartheid di Stato Ma io qui, in quest'aula, a nome del gruppo Italia Viva Azione di New Europe Dico che il nostro gruppo sta con Israele, senza sé e senza ma Perché non ci potrà essere pace se da un lato si riconosce il diritto allo Stato di Israele di esistere Ma dall'altra parte è di riconoscere che c'è un popolo Un popolo che vive una situazione drammatica a cui la comunità internazionale in questi anni ha voltato le spalle Bene Ministro, abbiamo valutazioni precise sull'attuale leadership di Tel Aviv Sui suoi errori e responsabilità nella politica interna ed esterna di Israele, certo Ma questo non cambia in alcun modo il giudizio su quanto accaduto L'attacco è a Israele e alla sua esistenza, profondo, efferato e radicale Non è la guerra terribile, l'impatto sulla produzione di gas è marginale Però chiaramente sono tutti gli schemi, le possibili conseguenze che preoccupano il mercato Che ovviamente è molto prudente Buongiorno, buongiorno cari telespettatori Avete sentito le parole durissime ieri del presidente americano Biden A proposito dell'attacco di Hamas ad Israele Abbiamo visto la visita a sorpresa della premia Giorgia Meloni alla sinagoga di Roma Ieri c'è stato un dibattito in Parlamento Ma non si è arrivati a una mozione comune tra maggioranza e opposizione pro-Israele Tutto questo mentre la guerra continua e crescono ovviamente le preoccupazioni di tutto il mondo L'esercito israeliano anche questa notte è tornato a colpire la striscia di Gaza 350 sarebbero stati gli obiettivi di Hamas centrati Intanto gli Stati Uniti insieme ad Israele e anche all'Egitto Stanno studiando la possibilità di creare dei corridoi umanitari per i civili Dalla striscia di Gaza in attesa dell'offensiva finale annunciata da Israele E a rendere però tutto l'orrore che stiamo vivendo da sabato scorso Le notizie dell'uccisione di almeno 40 tra bambini e neonati Tra le circa 200 persone trucidate letteralmente nel kibbutz di Kfar Aza Alcuni di loro sono stati bruciati o decapitati Oggi Netanyahu, il premier israeliano, vede il leader dell'opposizione Gans Dovremmo essere alle battute finali, lo diciamo con grande prudenza Per la formazione di un governo di unità di emergenza nazionale in Israele In Israele arriva anche il segretario di Stato americano Blinken Che andrà anche in Giordania e oggi in Egitto c'è il nostro ministro degli esteri Tajani Alla fine della copertina di Lavina Bruno avete sentito le parole di Claudio Descalzi Amministratore delegato di Eni perché ovviamente questa ennesima crisi Crea fibrillazioni sui mercati Il gas viaggia intorno ai 50 euro al kilowattora Quindi ha avuto una crescita così come il petrolio Per il momento il governo ha rassicurato Non abbiamo alcuna preoccupazione per quanto riguarda Diciamo le forniture energetiche nazionali Allora vi presento i nostri ospiti Bentornata la senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia Buongiorno Buongiorno Saluto Anna Falcone giurista, benvenuta Buongiorno Grazie per la prima volta Coffee Break Grazie a voi per l'invito Saluto e con noi Claudia Fusani da Riformista Ciao Claudia Buongiorno a tutti Ringrazio Valera Talbot che è responsabile del Centro Medio Oriente Africa dell'ISPI che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale Benvenuta Grazie e buongiorno a voi Parleremo oggi anche di economia e soprattutto di sanità e lo faremo con Giovanni Migliore che è il Presidente della Fiaso Buongiorno la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Mennuni ieri non si è riusciti a trovare un documento comune tra maggioranza e opposizione in Parlamento Come mai? Diciamo che alla fine comunque si sono votati i documenti delle varie anime politiche e quindi c'è stata una forma di fair play però non vi è stato questo documento comune Qual è stato il motivo per cui? C'erano delle questioni relative ad alcuni elementi descrittivi del governo o meno Quello che però rileva è la posizione assolutamente ferma che devo dire è stata manifestata da molti dei capigruppo che hanno preso la parola di assolutamente sostegno a Israele che ha vissuto questo attacco di una ferocia inaudita che come giustamente lei stava adesso rappresentando vede attaccati addirittura le donne e i bambini e quindi senza se e senza ma noi andiamo a sostegno assoluto e siamo in una posizione di sostegno assoluto del popolo di Israele e dello Stato di Israele che peraltro ha il diritto ovviamente di esistere, di difendersi rappresenta per tutti noi l'avamposto occidentale in una zona molto importante qual è il Medio Oriente e questo è emerso a chiare note Claudia voglio chiedere a te che sei un'attenta osservatrice anche delle cose parlamentari qual è stato il motivo di divisione? È un po' meno rosa la situazione rispetto a quello che ha raccontato la senatrice Sai ieri siamo arrivati a un punto intorno alle tre del pomeriggio che c'erano quasi sette, sette, dico sette diverse risoluzioni 5 da parte delle opposizioni e 2 da parte della maggioranza perché nella maggioranza purtroppo c'è sia la Lega e anche un pezzo di Fratelli d'Italia non è il caso della senatrice ovviamente però c'è un pezzo di Fratelli d'Italia e la Lega che hanno molto puntato i piedi sul fatto di voler far combaciare e coincidere Hamas con la Palestina in qualche modo ora io la faccio una sintesi perché è molto più sottile però la sintesi è questa e questo è un errore non si può fare assolutamente questo errore mi pare che proprio è l'ischline ieri ha detto non facciamo l'equazione tra Hamas e il popolo palestinese non è stata fatta così esplicita non troverai mai nei vecchi testi che comunque non sono circolati nei vecchi testi non troverai mai che Hamas è come la Palestina per carità però col discorso degli aiuti umanitari attraverso quel gancio lì si è cercato di fare un po' di confusione di sovrapporre le due questioni che sono assolutamente a tenere distinte ed è la stessa frattura che si era creata in Europa il giorno prima con il commissario ungherese che dice basta aiuti alla Palestina per fortuna Borrella ha detto non se ne parla proprio perché così aiutiamo i terroristi e questo da parte della destra da parte della sinistra le cose non sono andate meglio perché lì adesso cerco di fare la sintesi la sintesi è questa cioè ci sono stati 5 Stelle e Sinistra e Verdi che hanno voluto puntare il dito anche contro Israele e il presidente di Israele il governo israeliano guidato da Netanyahu anche questa è una cosa che in questo momento non va fatta perché ora c'è un solo colpevole è oggettiva la cosa e questo colpevole il killer si chiama Hamas non bisogna confondere né con la Palestina né con Israele e niente quindi tant'è che la mozione poi che il PD ha votato perché il PD ha cercato di limare dopo si è assestato sulla mozione di 5 Stelle e Sinistra ha accettato questo passaggio il quinto capoverso che dice proprio ok però le responsabilità sono anche in chi in questi anni ha spinto i coloni a conquistare sempre più spazio eccetera questa è stata l'unica parte perché alla fine di tutto questo giochino di risoluzioni tutti hanno votato tutto a dimostrazione di quanto fosse strumentale questo gioco tranne proprio questo pezzo che è nella risoluzione di PD e 5 Stelle e Verdi questo non è stato votato devo dire il terzo polo si è rimesso insieme fin dall'inizio sono stati i primi a fare una risoluzione netta, chiara, esplicita e invece chi ha giocato un po' sono stati gli altri ecco questo è il racconto in sintesi di una giornata complicatissima scusate se sono stata l'unica anche per le notizie terribili che continuano ad arrivare da Israele Anna Falcone cioè qui mi pare che la questione sia da una parte si dice in questo momento per quello che è successo che sotto gli occhi di tutti bisogna schierarsi senza se e senza ma con Israele e c'è qualcuno che dice no non può essere così lei a quale diciamo scuola di pensiero si iscrive? io in genere da giurista cerco di limitarmi a una lettura giuridica giuridica dei fatti ovviamente qualsiasi paese che venga attaccato merita sostegno e solidarietà qualsiasi orrore come quello che si è consumato merita una condanna senza se e senza ma su questo sinceramente non ho visto delle differenze mi pare che tutti gli schieramenti politici condannino questo orrore ed è quello che fa il diritto internazionale qualsiasi attacco di questo tipo soprattutto le carneficine sui civili questa non è più una guerra in sé per sé questi sono degli attacchi alla popolazione civile inerme terrorismo qual è il problema? il problema è che se la comunità internazionale non interviene con gli strumenti che ha l'Unione Europea l'ONU le potenze mondiali per cercare di raffreddare la comunità internazionale non ha che ha ha delle armi pressoché inesistenti infatti questa situazione appare quasi uno schiaffo alla incapacità di gestire a livello internazionale dei fronti caldi che chiaramente non erano spenti e che qualcuno forse questa è un'ipotesi sta cercando di fomentare in maniera strumentale il problema è che i fronti caldi iniziano a diventare un po' tanti e noi siamo a un passo dal baratro per cui oltre all'indignazione che noi persone comuni legittimamente solleviamo probabilmente la politica ha una responsabilità in più cioè la politica non si può fermare al momento istantaneo e allora se veramente si vogliono raffreddare quei fronti e si vuole evitare che le stragi dei civili non passino da Israele alla Panistina perché questo ribadisco sempre lo dice il diritto internazionale come è ovviamente condannato in tutti i modi qualsiasi attacco ai civili altrettanto è condannata la possibilità di far mancare ai civili anche dall'altra parte ci sono donne e bambini e i palestinesi giustamente non è Hamas rischiano finisco il mio discorso rischiano di subire una fine più lenta meno atroce ma i civili sono le vere vittime da una parte e dall'altra la politica ha responsabilità per entrambe le posizioni voglio ricordare che ieri sia le Nazioni Unite sia l'Unione Europea a proposito di quello che insomma si prefigura come un assedio totale a Gaza poi vedremo come da un punto di vista militare hanno ribadito che va rispettato il diritto internazionale umanitario cioè risparmiare la popolazione civile perché questo poi volevo solo dire che Hamas ne fatti tiene i nostaggi civili di Gaza a Gaza vivono 2 milioni e 300 mila persone di cui 900 mila bambini i terroristi di Hamas hanno mettono le proprie basi tra le case e quindi usano i civili come scudi umani la cosa migliore sarebbe che i palestinesi si ribellassero a questa situazione trovassero la forza e il coraggio di farlo io mi auguro però volevo precisare che Hamas tiene in ostaggio Gaza la soluzione però non può essere perché non è neanche proporzionata oltre che essere profondamente illegittima bombardare la striscia di Gaza perché l'orrore com'è da una parte e dall'altra si ma loro usano i civili come scudi umani e sbagliano sicuramente però questo non legittima la controparte a bombardare degli obiettivi che sono comunque che sono civili evidentemente la reazione deve essere una reazione diversa se ci ha fatto tanto orrore questa volta ci farà altrettanto orrore quando moriranno tanti o più bambini ci fa altre è una questione bisogna essere dopo 70 anni qual è l'altra soluzione io non faccio l'orrore io non sono uno stratega militare ha preso uno stagio Fusani e Falcone posso interrompervi un attimo sbaglio mi perdoni sbaglio o è anche un fallimento proprio dell'intelligence ci sono state delle operazioni militari chirurgiche perché adesso bisogna bombardare la Palestina uccidendo parimenti donne e bambini mi scusi la striscia di gas la striscia di gas devo andare in pubblicità scusatemi scusatemi un attimo devo andare in pubblicità devo sentire dobbiamo sentire Valera Talbot e poi il presidente della Fiaso Migliore però do un paio di notizie che non sono ovviamente irrilevanti rispetto alla discussione e alla situazione che stiamo vivendo intanto fonti palestinesi hanno fatto sapere che gli attacchi israeliani hanno distrutto a Gaza la casa della cosiddetta mente degli attacchi di Hamas ad Israele Muhammad Deif uccidendo il fratello e membri della sua famiglia poi il portavoce militare israeliano ha fatto sapere che stiamo andando verso un incremento degli attacchi verso la striscia di Gaza la massima priorità è quella di eliminare i comandanti di Hamas poco fa l'appello del Papa gli ostaggi vengono subito rilasciati e sappiamo anche se il numero non è preciso che ci sarebbero circa 200 persone tra civili e militari nelle mani di Hamas ci vediamo tra poco Allora sempre a proposito di quanto ha detto poco fa il Papa Papa Francesco c'è un diritto di chi è attaccato a difendersi ma sono preoccupato per l'assedio a Gaza dice il Pontefice Allora Valeria Talbot dell'ISPI io la prima cosa che vorrei chiederle è relativa proprio a questa iniziativa statunitense ovviamente insieme ad Israele e se ma anche all'Egitto di creare dei corridoi umanitari per i civili a Gaza intanto quante possibilità ha di realizzarsi e che scenario prevede a questo punto cioè credo che anche l'attacco l'assedio totale al di là dei rischi e delle conseguenze che può comportare di varia natura dipende anche dalla possibilità di realizzare questi corridoi umanitari o no? Guardi sicuramente c'è grandissima preoccupazione a livello internazionale e non soltanto per gli ostaggi israeliani che si trovano nella striscia di Gaza ma per la stessa popolazione della striscia quindi la comunità internazionale in primis gli Stati Uniti si stanno mobilitando per la creazione di questi corridoi qui ci si attende un ruolo importante da parte dell'Egitto che è il paese appunto confinante con la striscia di Gaza l'Egitto che negli anni lo abbiamo visto nelle crisi precedenti negli anni scorsi appunto ha svolto un ruolo di mediazione è un interlocutore a canali di dialogo aperti con Hamas quindi è il paese su cui gli Stati Uniti anche l'Unione Europea l'Italia appunto abbiamo visto con il ministro Tajani si trova oggi è il paese su cui si punta per l'apertura di questi corridoi ma anche per un dialogo quello che vorrei dire è che non è nell'interesse dei paesi della regione vedere un escalation di violenza e di tensione al di fuori dei confini di Israele e quindi gli attori regionali lavoreranno non soltanto hanno fatto appello alla moderazione con l'esclusione dell'Iran che ha sostenuto Hamas hanno fatto appello alla moderazione proprio perché in un contesto medio orientale in cui si vedevano diverse dinamiche di distensione si sono viste diverse dinamiche di distensione negli ultimi anni gli attori regionali non vogliono vedere un allargamento del conflitto sì volevo chiederle un'altra cosa perché vado a memoria mi pare che ieri in una dichiarazione il presidente turco Erdogan ha detto gli Stati Uniti vorrebbero radere al suolo Gaza mentre da un altro punto di vista abbiamo saputo che l'amministrazione Biden ha fatto molte pressioni su Netanyahu perché non scateni questa offensiva totale dall'epilogo assolutamente non solo rischiosissimo ma molto incerto e però Israele deve dare una risposta anche plasticamente molto forte a quello che è successo inevitabilmente Israele deve dare una risposta la storia ci insegna che ogni volta che c'è stato un attacco da parte di Hamas Israele ha dato una risposta molto dura ricordiamo che c'è un blocco della striscia di Gaza dalla 2007 la questione palestinese è una questione spinosa da tempo una questione divisiva una questione spinosa per tutte le amministrazioni americane che si sono succedute negli ultimi anni non è diverso per Biden che entra in campagna elettorale un'altra domanda che risuona molto in quest'ora a proposito proprio di quello che è successo in passato diciamo al di là dell'orrore che abbiamo visto a partire da sabato scorso è chi ha fatto fallire gli accordi di Oslo e diciamo ha impedito la nascita di uno stato palestinese perché molti accusano diciamo in maniera molto aperta sia Israele sia gli Stati Uniti sia l'Europa guardi è un interrogativo a cui è difficile dare una risposta univoca le responsabilità sono da entrambe le parti e Oslo gli accordi di Oslo che sono stati avviati nel 1993 si inseriscono in un contesto di distensione internazionale alla fine della guerra fredda del sistema bipolare in cui appunto c'era un clima di ottimismo in cui per la prima volta americani russi si sono parlati e hanno portato al centro alla conferenza di Madrid del 91 e hanno portato al centro la questione palestinese e poi che ha portato agli accordi di pace dal 2000 in realtà con lo scoppio della seconda intifada gli accordi di Oslo sono lettera morta quindi non è da oggi Ho un paio di domande da fare ancora ai nostri ospiti e poi arrivo dal presidente della Fiaso Migliore la prima la faccio ad Anna Falcone qual è la via di uscita diciamo al di là della congiuntura di adesso vedremo cosa succederà sul campo come si dice ma qual è la via di uscita la via di uscita come diceva Gino Strada o gli uomini mettono fuori la guerra dalla storia o la guerra metterà fuori gli uomini dalla storia le parole più sagge si sentono ancora una volta dal Papa per citare qualcuno che indubitabilmente è al di sopra delle parti noi in questo momento non abbiamo forse gli strumenti per costruire una via d'uscita dato dal fallimento dell'ONU e dato purtroppo da una congiuntura internazionale che invece che aiutare i processi di pace mira alle polarizzazioni quello che hanno fatto anche tutti quanti gli attori qual è dire io sto con Tizio io sto con Caio nel diritto internazionale non ci sono mai fatti istantanei il diritto internazionale anche solo per il fatto di condannare o meno dei comportamenti di causa ed effetto ovviamente valuta una serie di una serie di fatti che hanno una concatenazione causale a noi purtroppo pare di avere una classe politica che invece vive dell'istante che invece non si occupa più della politica estera e che pertanto finisce per non avere una visione il fatto di averla abbandonata e anche probabilmente di non avere un'Unione Europea che riesce a parlare con una voce sola non solo per la guerra in Ucraina non riesce a esprimere un piano di pace figurarsi se riesce a farlo a livello internazionale Allora adesso voglio sentire sia la senatrice Mennuni che Claudia Fusani su un'altra domanda che è lì che pesa come un macigno però a proposito di questa nuova crisi le ripercussioni appunto le abbiamo viste su per esempio i prezzi dei beni energetici ed è un altro tassello di quella guerra mondiale a pezzi a cui faceva riferimento Papa Francesco che probabilmente si stanno ai noi incastrando generando quello che spesso viene definito il nuovo gran disordine mondiale sentiamo Marco Fratini la storia attraversa sempre l'economia e a volte la travolge accadde con la guerra dello Yom Kippur 50 anni fa per l'occidente la conseguenza fu un aumento scioccante dei prezzi del petrolio corsi e ricorsi con l'attacco a Israele potrebbe farlo ancora più di quanto non sia già successo con l'Ucraina o forse no però si fa strada una considerazione anche questo nuovo violento scenario sembra nascere da una precisa volontà di disordine mondiale se riguarda il Mediterraneo riguarda l'Italia ma Roma è praticamente equidistante da Tel Aviv e da Kiev significa che la geografia ci ha piazzati in mezzo ai contesti più preoccupanti e difficili di questo scorcio di millennio siamo esposti il pensiero non può non andare alle nostre strategie energetiche che ci fanno dipendere da un ricco fornitore o dall'altro se non è più la Russia allora è soprattutto il Medio Oriente e quindi restiamo proprio in mezzo 70 anni fa veniva fondata Leni ente nazionale idrocarburi ci vorrebbero ore per raccontare con completezza che cosa abbia significato per il nostro paese in pochi secondi si potrebbe sintetizzare dicendo che Leni faceva il pieno alle Fiat riscaldava le case degli italiani e faceva girare le fabbriche ma è stata molto molto di più vendeva benzina sì ma ottimista perché noi siamo dei poveri abbiamo bisogno quando si parla della società fondata da Enrico Mattei ci si riferisce alla realizzazione di un progetto tanto industriale quanto diplomatico internazionale visionario all'inizio ma autorevolissimo poi con un'intenzione in fondo ribelle rendere l'Italia meno dipendente dai prezzi del petrolio americano le famose sette sorelle una peraltro era metà inglese metà iraniana in Medio Oriente e in Africa Leni azienda partecipata dallo Stato non apriva filiali o stabilimenti ma ambasciate non ufficiali certo così come a volte non è stata ufficiale nel bene e nel male la missione che ha compiuto per fare in modo che l'Italia quel paese in mezzo alla carta geografica è così esposto prosperasse e fosse garante di chissà quanti equilibri non è più quel mondo però 70 anni fa il sole era solo una stella ora è una fonte d'energia idem il vento le maree il calore della terra dopo tanti anni di relativa pace si sta passando a tempi di evidente guerra no quel mondo è cambiato e ci si chiede che ente nazionale sarà visto che gli idrocarburi non bastano più ecco bella questa questo servizio di Marco Fratini senatrice Mennuni io le faccio una domanda perché poi nelle tante discussioni nel confronto nelle riflessioni negli editoriali c'è questo elemento ma Hamas vuole cancellare lo stato di Israele diciamo che la situazione mi sembra abbastanza cioè per Israele in questo momento imballo la propria esistenza mi sembra che allora noi abbiamo avuto un attacco no in una mattina incredibile perché non solo abbiamo avuto un attacco missilistico eccezionale rispetto alle altre guerre che si sono susseguite si contava che il numero di missili fosse paritetico alla metà di quelli che sono stati lanciati durante tutta l'ultima guerra quindi rendiamoci conto in una giornata sola che cosa si è riuscito a scatenare nel contempo sicuramente ci sono stati dei problemi di intelligence sicuramente c'è stato questo accesso via terra con tutte le immagini disastrose a cui abbiamo dovuto assistere la festa dei ragazzi che venivano portati via lo scontro casa per casa famiglie rastrellate e portate via insomma mi sembra che sia di tutta evidenza che l'attacco sia stato veramente estremamente serio e quindi comprendo bene la posizione di Israele che deve difendersi ma aggiungo di più credo che sia assolutamente fondamentale per l'Occidente sostenere la posizione di autodifesa che Israele in quella posizione importante strategica ha e deve avere no no pensavo queste ultime parole c'è un parallelismo con quello che sta succedendo in Ucraina Claudia voglio sapere la tua opinione guarda molto in sintesi quello che stava succedendo in questi anni dall'anno 2020 è che c'era un tavolo di pace chiamiamolo così che vedeva insieme per la prima volta paesi arabi con Israele un tavolo che era stato favorito nel 2020 da Washington agli Stati Uniti ed eravamo a un passo cioè come ha detto benissimo il presidente della commissione estere alla camera Guido Tremonti Giulio Tremonti scusatemi non viene il nome ha fatto un bellissimo intervento ieri dicendo tra un mese e mezzo sarebbe stato tardi perché questo tavolo con gli accordi di Abramo stava andando avanti molto velocemente e abbastanza soprattutto con l'Arabia Saudita soprattutto con l'Arabia Saudita anche con altri paesi allora e questo che cosa voleva dire voleva dire staccare un pezzo di quel mondo dal resto quindi chi era a quel tavolo avrebbe fatto parte di un certo percorso chi ne restava fuori rimaneva fuori per sempre e isolato soprattutto allora quello che l'attacco così feroce ha fatto è stato di far saltare quel tavolo lì cioè si sono tutti fermati adesso sono tutti congelati qualsiasi contatto è stato congelato l'altro giorno ha ribadito l'appoggio alla causa palestinese e questo perché e questo perché Hamas ha detto più volte che non soltanto Hamas con Hamas l'Iran e anche altri dicono chiaramente che lo Stato di Israele non deve esistere quindi questo è il punto allora siccome gli accordi di Abramo invece avrebbero messo Israele in un contesto come dire assolutamente nuovo che vedeva paesi arabi che avrebbe visto eccetera adesso quella roba lì è stata fermata il vero obiettivo della violenza di Hamas è stato quello far saltare quella roba lì rapidissimamente un flash chiedo diciamo pongo la stessa domanda a Valeria Talbot e poi prima della pubblicità voglio sentire su questa questione una riflessione a Giovanni Migliore che si occupa di sanità ma come tutti noi vive in questo mondo diciamo Valeria Talbot la domanda che lei mi pone è quella sugli accordi di Abramo sì no a chi giova voglio dire e se l'azione l'attacco di Hamas tra i vari obiettivi aveva quello di insomma evitare qualsiasi tipo di normalizzazione di rapporti di dialogo sicuramente diciamo l'attacco di Hamas ha una tempistica perfetta perché appunto avviene nel momento in cui i negoziati tra l'Arabia Saudita e Israele nella cornice degli accordi di Abramo del 2020 stavano andando avanti dobbiamo precisare che la questione palestinese è uno dei nodi sul tavolo di questi negoziati tra Tel Aviv e Riyadh quindi per il momento l'accordo il trattato di pace con l'Arabia Saudita è congelato però rimane in piedi tutta l'impalcatura degli accordi di Abramo cioè dei trattati di pace tra Israele con gli Emirati Arabi Uniti il Bahrain il Marocco firmati nel 2020 è ancora presto per capire quali saranno le conseguenze su questa impalcatura è certo che in questa fase con l'Arabia Saudita al momento per il momento ci sarà uno stop diciamo che è tutto assolutamente congelato vista la situazione Romani Migliore che riflessione ha fatto rispetto a questa ennesima crisi ma l'unica riflessione possibile deve partire da una condanna che è di tutti cioè lì è assolutamente inevitabile non pensare che quello che ha fatto Hamas è una cosa terribile orribile e va condannata in maniera ferma io devo dire facciamo una riflessione che è quella noi non siamo per fortuna da tanti anni non siamo abituati alla guerra non siamo abituati a situazioni drammatiche come queste per fortuna noi abbiamo un valore assoluto che è quello della pace a cui dobbiamo certamente tendere facevo una riflessione che mi riportava al periodo del covid noi non impariamo nulla questa è la cosa che sinceramente mi sorprende sempre ogni giorno noi per fortuna purtroppo dimentichiamo molto in fretta è chiaro che la storia si ripete è chiaro che noi oggi non possiamo che condannare fatti di questo genere è qualcosa di straordinariamente lontano dalla natura umana noi ci occupiamo di sanità ci occupiamo di curare la gente ed è chiaro che vedere bambini sgozzati io ho tre figlie devo dire che fa orrore alla stessa maniera però penso che per le mie figlie è necessario che noi cominciamo un po' a occuparci un po' delle cose che possono accadere la cosiddetta io non sono preoccupato sono molto preoccupato ma vorrei preoccuparmene e questo in sanità ma anche in generale in quello che ci accade intorno però tutte le cancellerie e tutti i paesi si occupano sempre da anni della questione palestinese di Israele quello è un dossier che è presente su tutte le scrivenie da sempre rispetto a tanti altri momenti cruciali della storia recente quella è una situazione irrisolta dobbiamo semplicemente dire che è irrisolvibile no 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 io lo domando se mi fate andare in pubblicità facciamo così ci vediamo un attimo di pausa ma così avremo anche degli aggiornamenti sulla questione israeliana e ripartiamo dalla sanità perché l'altro giorno parlando ai presidenti di regione italiani riuniti a Torino Giorgio Meloni ha detto a proposito delle risorse sì insomma le risorse servono ma è importante capire come si utilizzano queste risorse c'è tutta una polemica soprattutto tra maggioranza e opposizione a proposito dei finanziamenti per la sanità anche nella prossima legge di bilancio ieri in audizione in Parlamento il ministro Giorgetti ha però fatto una qualche apertura dicendo insomma che le risorse si troveranno e poi ovviamente andranno inserite nella prossima manovra ripartiamo però dalla sanità dopo la pubblicità si parte dalla sanità dove l'elemento personale sanitario siano essi medici siano essi infermieri noi riteniamo essere decisivo voi vedete un profilo che è quello della situazione vigente quando vedrete quello del diciamo nel documento di bilancio troverete che noi rispetteremo l'impatto sul pil che c'era in epoca pre-covid un sistema sanitario nazionale efficiente efficace è l'obiettivo di tutti e penso che sarebbe mio per seguire questo obiettivo e concentrare tutta la discussione esclusivamente sull'aumento o meno delle risorse interventi per abbattere le liste d'attesa per i medici e per il personale con una strategia dai margini di manovra limitati e la grande aspettativa di avere al suo fianco le regioni la Presidente del Consiglio si prepara ad affrontare le carenze della sanità e insieme alla sinistra che prevede tempesta non è accettabile in vista della prossima manovra chiediamo al governo Meloni di mettere sulla sanità pubblica le risorse che servono per fermare questo scempio secondo i dati Gimbe crolla il rapporto tra spesa sanitaria e PIL dal 6,6% del 2023 al 6,2% nel 2024 al 6,1% nel 2026 il definanziamento si riflette sull'accesso alle prestazioni un anno per un'attacca e si muore in lista d'attesa il governo Meloni taglia di 2 miliardi la sanità pubblica mentre 4 milioni di italiani non riescono a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe vogliono privatizzare la sanità è scritto nel piano per la sanità del governo recuperare tutto ciò che si è perso la prevenzione gli screening e la medicina territoriale per non intasare gli ospedali e non consegnare al privato anche i medici abbiamo adottato misure per potenziare gli organici delle strutture migliorare le condizioni di lavoro non rifaremo gli errori di chi ci ha preceduto non parleremo di aumento di fondi senza chiedere specifici impegni alle regioni soprattutto a quelle che troppo spesso in troppi casi li hanno usati male ritengo che il ministero probabilmente si debba riappropriare anche della propria centralità e di un governo nazionale cioè c'è il regionalismo sanitario ma il controllo è un controllo centrale e noi potremmo mettere in atto anche delle azioni sanzionatorie noi dobbiamo fare un'alleanza come sistema pubblico sanitario anche con quello privato perché il privato convenzionato fa parte del servizio pubblico regionalismi visioni diverse da destra a sinistra e in mezzo al deficit che di certo non si recupera a parole abbiamo fatto una proposta mandata a Giorgia Meloni di investire tutto quello che c'è di deficit quasi tutto 10 miliardi su 14 per rimettere a posto la sanità se questo non avverrà noi non siamo disposti a votare scostamenti di bilancio a proposito delle ultime parole che avete sentito da calenda oggi in Parlamento è cominciato l'esame della nota di aggiornamento al documento economia e finanza al Nadef ormai famosa e le opposizioni sembra voteranno contro se appunto non ci sarà da parte del governo un impegno molto preciso a proposito delle risorse da destinare alla sanità Giovanni Migliore mettiamo subito i piedi nel piatto senza girarci intorno intanto il governo sta mettendo meno risorse nella sanità allora quello che noi osserviamo ogni giorno è un dibattito secondo me a questo punto un po' inutile sul tema delle risorse per la sanità perché? perché noi veniamo da un periodo che è stato quello del covid io dico ormai lo dico da un po' di tempo siamo affetti da un sindrome che si chiama long covid gestionale noi durante il covid abbiamo utilizzato qualunque strumento è stato giusto farlo per poter superare una emergenza allora qual è il tema? il tema a mio avviso è quello di recuperare quello che noi sappiamo fare meglio lo dico come servizio sanitario nazionale gestire bene le risorse noi abbiamo dei risultati come sistema sanitario paese che sono dei risultati assolutamente di primo ordine do un numero facile facile che capisco pure io che è quello che in una sanità che è posta come modello per tutti noi che è quella nordamericana l'aspettativa di vita alla nascita è di 5 anni più bassa rispetto a quella dell'Italia ci saranno mille motivi però non c'è dubbio che in questi 30 anni il servizio sanitario nazionale ha contribuito a far raggiungere questi successi i numeri che sono stati sottolineati dal ministro Schillaci noi li sosteniamo cioè noi riteniamo che effettivamente la richiesta del ministro era di 4 miliardi non c'è dubbio che al di là del rapporto spesa PIL spesa investimenti in sanità noi non possiamo non sottolineare che investire in sanità significa porre i presupposti perché il paese possa crescere mi dà un'altra risposta perché il ministro Schillaci ha anche accusato alcune regioni perché dice noi come governo che abbiamo dato una dotazione per cominciare ad abbattere le liste di attesa alcune regioni hanno speso questi fondi altre diciamo li hanno utilizzati in misura molto ridotta faccio tutta questa domanda per chiederle ma il problema della sanità è che è regionale che ci sono 20 servizi sanitari regionali il problema della sanità il servizio sanitario nazionale è un sistema complesso non esistono soluzioni semplici a un problema complesso non c'è dubbio che noi abbiamo ancora regioni che sono veramente da più di 10 anni in un cosiddetto regime di piano di rientro in questo piano di rientro sono state cristallizzate per esempio le assunzioni di personale le faccio un esempio molto immediato la Puglia ha sostanzialmente 13 mila addetti in meno rispetto all'Emilia Romagna con un numero e con una popolazione sovrapponibile è abbastanza evidente che non è facile offrire le stesse prestazioni con un capitale umano che è di un terzo più ridotto le dico anche un'altra cosa io però vorrei perché a me piace il ragionamento su quello che si può fare e sul ragionamento dell'utilizzo corretto delle risorse mi piace per tantissimi motivi ma prima tra tutti perché io rappresento la FIASO la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Pubbliche noi siamo prima di tutto appassionati di sanità pubblica e abbiamo accompagnato per 25 anni lo sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale e noi faremo il punto lo facciamo ogni 5 anni a Roma il prossimo 8 novembre e il titolo che abbiamo dato a questo evento di puntualizzazione che vede la sanità italiana è cambiamo rotta per il futuro della sanità pubblica cosa significa per noi cambiare rotta prima di tutto cambiare le regole noi abbiamo un sistema di regole che è sclerotizzato faccio un esempio i nuovi LEA sono stati livelli essenziali di assistenza che sostanzialmente quell'insieme di prestazioni e via discorrendo che noi assicuriamo ai nostri cittadini li abbiamo approvati nel 2017 entreranno in vigore nel 2024 le dico con molta franchezza io la raccolgo la sfida della competizione della managerialità perché noi abbiamo bisogno di un perimetro di managerialità all'interno di un sistema di regole e di indirizzo in cui la politica ci deve mettere la legge sull'autonomia aspettate allora posso siccome la discussione sulla sanità è una discussione a 360 gradi che coinvolge tutti la riprendiamo tra un attimo che voglio sentire tutti gli altri pareri arrivato però sotto corona noi mettiamo tascichiamo qualsiasi discussione tempo ancora bello? bello diciamo stabile che bello insomma dipende dai punti di vista allora come vedete di nuvole sostanzialmente non ce ne sono che cosa può succedere nella giornata di oggi qualche velatura quindi nuvole abbastanza sottili poco intense sulla Liguria sull'Alta Toscana possibili deboli pioviggini quindi capite di che stiamo parlando lo stesso più o meno vale anche per le zone del basso tirreno domani si replica perché la situazione è assolutamente simile diciamo sempre con queste velature e deboli pioviggini fra Liguria e Alta Toscana compare qualche nuvola sulle zone di nord est e poi le zone del basso tirreno sono diciamo delle giornate un po' incerte oltre questo non si va sulle altre zone come vedete sole pieno giornata di venerdì e c'è qualcosa che si allarga un po' sulle zone di nord est sempre precipitazioni deboli però ci possono essere e anche su qualche zona alpina poi sempre la Liguria meno la Toscana il basso tirreno quindi in linea di massima non cambia molto questo famoso cambiamento del tempo quindi la rottura di questo prolungamento dell'estate se ricordate la scorsa settimana era previsto per la prossima settimana dopo il 15 quindi prima sì poi agli inizi di questa settimana no adesso forse quindi i modelli stanno come si dice oscillando un po' però diciamo c'è qualche probabilità che la settimana prossima lo scenario un poco cambi a qualcuno faceva piacere il prolungamento dell'estate però come dire prima o poi dobbiamo rientrare nel binario che è meglio grazie andiamo in pubblicità ci ritroviamo tra poco e ripartiamo dalla sanità allora rieccoci cercando di utilizzare al meglio questa parte finale stiamo parlando di sanità ma vi do qualche aggiornamento che riguarda la crisi in Israele la guerra dimostra che occorre distribuire armi ai cittadini lo ha detto il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Bengvir che peraltro è considerato uno dei falchi uno delle diciamo di quelle figure politiche che nega quasi l'esistenza della Palestina e sembra che appunto la popolazione di Sderot sarà dotata di armi e ancora Israele ritiene che nelle mani di Hamas a Gaza ci siano almeno 60 israeliani tra militari e civili abbiamo aggiornato per ora le 60 famiglie di rapiti ha detto il portavoce dell'esercito israeliano e ancora prima citavo il Papa gli ostaggi israeliani questo è l'appello che fa Papa Francesco siano subito rilasciati allora il presidente di Fiaso Migliore ci ha raccontato alcune cose senatrice Mennuni prendo un altro degli spunti di grande polemica e di contraposizione tra voi e l'opposizione volete privatizzare la sanità allora innanzitutto io ci terrei a ricordare alla opposizione che di tagli in ambito di sanità ce ne sono stati tanti purtroppo e sono partiti dal governo Monti hanno attraversato il governo Renzi hanno attraversato il governo Vintoni posso scusi perché come citava questo dal 2010 al 2019 è stata la stagione dei tagli alla sanità pubblica sono stati sottrati oltre 37 miliardi per risanare la finanza pubblica questo è indicato dalla fondazione Gimbe scusi no appunto rispetto per esempio al 2021 noi abbiamo avuto un incremento delle risorse per la sanità pubblica notevolissimo di manovra governo Meloni per targare anche quelli che sono gli elementi politici quindi assolutamente questo elemento non c'è è di tutta evidenza che ci approcciamo ad una stagione di legge di bilancio oggi approveremo la nota la Nadef che sarà complessa perché noi abbiamo di fatto un ammanco di circa 13-14 miliardi che ci derivano dalle politiche della BCE di incremento dei tassi di interesse e quindi anche del tasso di interesse del debito pubblico italiano non lo vive solo la famiglia con il suo mutuo questo incremento lo Stato lo vive nel suo complesso dice lei abbiamo ereditato il governo Meloni ha ereditato una spesa enorme che gli deriva dal bonus 110 che era stato congegnato in un modo assurdo quindi è chiaro che siamo in una condizione non semplice pur tuttavia ieri il ministro Giorgetti all'audizione in commissione quinta bilancio della quale io faccio parte ha chiarito che l'intendimento è quello di mantenere inalterata la spesa in ambito sanitario poi concordo e condivido da già consigliere comunale di Roma Capitale assessore di un municipio che doveva fare attenzione ai conti al proprio budget che quanto dichiarato dal premier Meloni è assolutamente giusto cioè il fatto che bisogna anche rivedere con attenzione la spesa l'attenzione che deve essere dedicata al come vengono investite le risorse in ambito sanitario è un grande problema sul quale bisogna fare una analisi ma io sono certa che la legge di bilancio vedrà attenzionata la crescita indubbiamente nonostante sia una fase comunque come dicevamo evidentemente di difficoltà adesso ci mancava solo la guerra in Israele il sostegno alle famiglie al loro potere d'acquisto perché è chiaro che l'inflazione c'è stata ed è stata notissima la sanità è uno dei grandi pilastri sui quali noi lavoreremo voglio sentire Anna Falcone e poi Claudia Fusani a proposito di sanità Anna Falcone perché come dire c'è una legittima naturale contrapposizione tra il governo e le opposizioni su questo tema poi ovviamente quello che contano sono i fatti e quindi poi dobbiamo vedere nero su bianco sulla legge di bilancio sulla manovra cosa ci sarà però la senatrice diceva teniamo conto dello scenario complessivo noi comunque non l'abbiamo definanziata sì ma c'è un problema anche di contrapposizione all'interno del governo che è strisciante ma è evidente si legge anche dalle dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato la crisi della sanità e il crollo delle prestazioni sanitarie che diventa drammatico nelle regioni più fragili dove maggiori invece la domanda di salute e di prestazioni sanitarie è la dimostrazione del fallimento della regionalizzazione una riforma che risale ai primi anni 2000 e che però adesso rischia di essere peggiorata dalla riforma dell'autonomia differenziata l'attuazione anche un po' forzata di quanto stabilisce la Costituzione voluta dalla Lega io sono stata udita insieme a moltissimi altri esperti in Commissione Affari Costituzionali il problema è un problema tecnico al di là del merito ci sono moltissime posizioni anche divergenti all'interno della maggioranza questa riforma non consente il finanziamento di LEA questo lo dice l'ufficio di bilancio del Parlamento ma lo dicono anche insomma autorevolissimi istituti che hanno fatto proprio una valutazione ponderata della possibilità di finanziare questa sanità che sarebbe ulteriormente regionalizzata questo che cosa significa? Significa che contrariamente a quanto chiedono moltissimi operatori sanitari cioè per garantire uguali livelli di assistenza anche solo diciamo così al minimo c'è ancora questa definizione livelli essenziali delle prestazioni che già occhieggia diciamo così un contenuto minimo del diritto laddove invece il diritto alla salute viene tutelato dalla Costituzione come un diritto fra i più importanti di quelli garantiti al cittadino questa è una posizione che appunto vede molto distanti nella realtà la Lega e anche un pezzo di fratelli d'Italia e anche il partito della senatrice dove tra l'altro sono eletti moltissimi medici è molto più tiepido diciamo sull'autonomia differenziale perché si sa benissimo che per gestire bene la sanità in realtà bisognerebbe tornare a un sistema sanitario nazionale diciamo che tra le riforme costituzionali mi sta più a cuore il tema del presidenzialismo del presidenzialismo questo lo ammetto lo ammetto sì però quello che abbiamo capito e qui chiamo in ballo Claudia Fusani è che intanto questa riforma dell'autonomia differenziata la vedo molto lontana cioè non sento accelerazioni in vista o no lo sbaglio io allora volevo dire tre cose a flash perché mi sa che il tempo è poco parto da questa tua domanda ovviamente ieri il ministro Giorgetti è stato a suo modo molto chiaro cioè ha detto finché non si fanno i leppe non si stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni e non si finanziano questi lep la riforma la riforma sull'autonomia non si fa lo ha detto Giorgetti in commissione audita della Lega quando sappiamo invece quanto la Lega quanto soprattutto i governatori ne facciano a questione di principio e in questo poi siamo tutti d'accordo sul fatto che i fratelli d'Italia questa legge sull'autonomia non ce l'ha per niente in testa ma aggiungiamo che lei è stato inserito al primo articolo proprio della riforma dal presidente Meloni questo elemento che lei adesso sta citando peccato che il ministro che porta questa riforma sostiene che non c'è bisogno di fissare adesso i leppe ieri Giorgetti ci ha detto che vanno fissati finché non si fanno quelli e non si finanzano non si va avanti punto primo punto secondo punto secondo allora sulla sanità mi permetto di dire mi pare che l'Ocse dica che dall'Italia escono una media ogni anno di mille tra medici no posso dirtelo la spesa media pubblica in Italia no 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 di infermieri infermieri e medici è la metà di quella tedesca e di inferiore di un terzo a quella francese no ma io facevo l'area Ocse è 828 euro pro capite no no ma io facevo un discorso di teste di medici e di infermieri che stanno lasciando il servizio pubblico in una media di un numero di mille all'anno ed è basso temo allora questo è un'urgenza da affrontare immediatamente perché è inutile che parliamo di aziende sanitarie locali e magari di tanti amministratori in queste aziende sanitarie e non ci occupiamo di medici e di infermieri visto che lei è rappresentante delle aziende sanitarie lei mi insegna noi parliamo sempre sappiamo che sono di medici il patrimonio il patrimonio delle aziende sanitarie più importante è quello del capitale umano dei professionisti dei medici bisogna fare in fretta perché se ne sta andando il capitale umano va valorizzato è un dato di fatto è un dato di fatto che è la mancata valorizzata va pagato molto di questo va pagato no no perché esciamo dalle no è quello medici e infermieri vanno pagati va senz'altro pagato meglio questo lo abbiamo chiesto ma va anche valorizzato nei percorsi di carriera diciamo che io farei dimagrire però posso finire il concetto sì prego però è importante ma vedo che lei è molto sensibile molto sensibile perché sono un appassionato di sanità pubblica farei dimagrire la parte degli amministratori delle asole e farei ingrassare aumentare la parte di medici e infermieri questa è un'affermazione assolutamente fuori luogo non fosse altro che è fuori luogo perché non risponde a verità i cosiddetti amministratori delle asle hanno una retribuzione fissata per legge che risale a circa 20 anni fa ed è in lire ed è in lire ed è in lire allora questo dovrebbe essere il primo intervento perché lei non può pensare che un direttore generale prenda meno di un direttore di unità operativa è come se sostanzialmente è come se sostanzialmente ci sono due esempi in natura uno è questo e l'altro sono le squadre di calcio dove il direttore della squadra di calcio prende meno di calciatori non so se è sovrapponente è centrale noi abbiamo il nuovo adesso in ambito dei contratti sanitari io lo vorrei dire perché sembra che se no il governo Meloni è disattento alla categoria fondamentale dei medici così come nella scorsa manovra andammo comunque a prevedere degli aumenti per tutti gli ospedalieri pronti soccorsi voglio chiedere a migliore a profitto due flash migliore uno come molti dicono il servizio sanitario nazionale è al capolinea secondo lei? assolutamente no noi rivendichiamo la capacità di utilizzare bene le risorse allora per utilizzare bene le risorse è necessario avere delle regole che siano tempestive noi dobbiamo fare delle scelte abbiamo bisogno di più politica di un indirizzo complessivo politico e noi come abbiamo sempre fatto ci mettiamo a disposizione del paese per poter gestire efficacemente le risorse come negli ultimi 30 anni mi dice proprio in un flash come si abbattono le liste di attesa? ci vogliono più medici e questo è un dato di fatto perché noi abbiamo certamente la tecnologia abbiamo l'organizzazione ma è inevitabile è considerazione di tutti che se noi non abbiamo il personale sanitario per far funzionare le TAC ne possiamo comprare quante ne vogliamo però lì c'è anche un tema di governo della domanda allora i professionisti i nostri medici i medici di medicina generale devono essere orientati come sanno fare molto bene a prevenire invece che curare noi l'agenas ma lei pare normale che un medico curante debba avere 1500 assistenti ci vogliono più medici di medicina generale come fa a seguire 1500 assistenti questo sia un tema e su questo noi abbiamo delle proposte concrete a me vale di capire che il presidente migliore dice tante regole vanno riviste e cambiate assolutamente se no la sanità così non può andare avanti al di là adesso della polemica sulle risorse vado david ti do david parenzo vado david parenzo ciao andrea ciao dando questa notizia risuonano ancora le sirene di allarme nel sud di israele e poco fa il generale tisler che comanda l'aviazione militare israeliana ha detto stiamo attaccando la striscia su una scala senza precedenti mai avvenuto prima infatti andrea stavo guardando proprio anch'io mi è arrivata adesso questa notizia rilanciata dalle agenzie di stampa internazionali è stata bombardata poco fa l'università di gaza vi daremo tutti i dettagli c'è l'appello del papa siano rilasciati immediatamente gli ostaggi il bollettino parla di 1200 morti in israele e la risposta israeliana al lancio di razzi dal sud del libano da qui partiremo dalla photoshop che sta facendo il giro del mondo del kibbutz che fa razza con il massacro dei 40 dei 40 bambini e poi vi porteremo con delle immagini incredibili all'interno della striscia di gaza cioè il racconto che vorremmo fare è far capire al nostro pubblico di che cosa stiamo parlando chi c'è chi vive come è strutturata anche dal punto di vista urbanistico la gaza street dove vivono 2 milioni e 400 mila persone ci sarà con noi in apertura il grande Giovanni Minoli Cecilia Sala collegata da Tel Aviv Goffredo Buccini Riccardo Barenchi Fiamma Nere Stagn Dario Fabri insomma collegamenti da Israele e queste immagini incredibili che ci portano dentro Gaza dove è attesa forse a ore a giorni quella che viene chiamata l'offensiva di terra 300 mila soldati richiamati a tra poco Andrea grazie grazie allora io ringrazio Anna Falcone grazie a Claudia Fusani grazie al presidente di Fiaso Giovanni Migliore grazie alla senatrice Mennuni e do in chiusura questa notizia che è un po' dal senso dei tempi che stiamo vivendo arriva questa notizia dal Fondo Monetario Internazionale il debito pubblico mondiale continua a crescere e alla fine del 2030 quindi possiamo dire domani se continuerà a salire agli attuali tassi e guaglierà il PIL globale cioè la ricchezza di tutto il mondo pensate un po' chiudiamo così ognuno si faccia le proprie riflessioni noi siamo qui per feriti domani 9.40 è l'ultima arrivata non è colpa mia a domani adesso c'è la reghettira grazie grazie a tutti grazie a tutti